Ciao, ciao, grazie per aver scelto questo video ASMR rilassante e bentrovato o bentrovata sul mio canale Feri ASMR. Per chi non mi conoscesse, io sono Federica, quello che stai per guardare è un video ASMR di sussurri, ti consiglio come al solito di indossare le cuffie oppure gli auricolari per ascoltarlo al meglio e soprattutto di distenderti in un posto comodo e concederti qualche minuto per te. Spero di farti attormentare. Ah, prima di crollare nel sonno, se ti va, lascia un mi piace a questo video per supportarmi e se non sei ancora iscritto o iscritta al canale, fallo cliccando il pulsante qui sotto e soprattutto non dimenticare di attivare la campanellina per non perdere i prossimi video rilassanti. Fatto? Bene, allora possiamo iniziare. Per questo video di Whispering risponderò ad un tag, quindi è una sorta di questionario inventato da Monica Arasolè ASMR che saluto. Ciao Monica. Sono stata taggata da Kiki Whispers. Saluto anche te Kiki e ti mando un bacino. E si tratta di dare risposta a 1, 2, 3, 4, 5 categorie di domande. Dire, fare, baciare, lettera, testamento. E cominciamo subito. Prima categoria, dire. Dici una cosa che hai fatto che reputi poco carina. Ho dovuto pensare un po' a questa risposta perché solitamente cerco di pesare bene le parole e le azioni e provo per quanto possibile a essere corretta e a rispettare le altre persone. Però certamente anche io ho commesso degli errori e credo che quello peggiore, o comunque quello per cui provo il maggiore senso di colpa del quale ancora non mi sono del tutto liberata sia stato l'episodio in cui avevo discusso, diciamo, con il mio fidanzato e mi sono comportata male nei suoi confronti perché ho deciso di interrompere le comunicazioni e quindi non gli ho più risposto per un po'. Mentre lui cercava in qualche modo di fare pace, io trovo che questo sia un atteggiamento bruttissimo che purtroppo mi è capitato di avere. Molto raramente, devo essere sincera, però ricordo questo episodio in cui ho fatto questa cosa che reputo brutta e che non voglio fare mai più con nessuno anche perché so cosa si prova a essere dall'altra parte e non è affatto piacevole. E diciamo che questo atteggiamento è veramente contrario alla mia natura mediatrice. Io cerco sempre, anche nei momenti di conflitto, di trovare una soluzione pacifica e mi aspetto che dall'altra parte ci sia la stessa volontà. solitamente quando si è nel mezzo di una discussione se il fine comune è quello di trovare la pace allora le soluzioni emergono e interrompere la comunicazione non è mai una buona strada a meno che l'altra persona non ci stia insultando o stia veramente oltrepassando un limite di correttezza ma di solito non è mai questo il caso Passiamo alla categoria numero 2 Fare E qui il questionario dice di fare dei suoni con un oggetto Possibilmente che non rientri fra i miei trigger abituali Mi trovo un po' in difficoltà anche qui perché cerco sempre di variare i miei trigger anche se ci sono alcuni che ripropongo ovviamente più spesso perché me ne innamoro però ho trovato un trigger che è da molto 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 tempo che non vi porto sul canale ed è quello del giuffetto dei sogni che vado adesso a prendere Eccolo vedete? l'ho utilizzato forse in un paio di video e non mi sembra di averlo mai visto in giro su altri canali non lo so fatemelo sapere è il giuffetto dei sogni quindi è molto 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 fadoso alla fine del video proverò a fare un altro po' di suoni spegnendo la luce o comunque passandola in modo che possiate apprezzare le luci del giuffetto terza domanda o meglio terza penitenza nomina una persona che baceresti alla francese una persona famosa in questo periodo non ho una particolare crush per un personaggio famoso devo dire sempre ovviamente il mio amatissimo Hugh Jackman che mi piace tantissimo però non mi sento innamorata di una persona famosa quindi davvero non lo so non ho un forte desiderio di baciare qualcuno però sono molto curiosa di sapere chi bacereste voi alla francese quindi lasciatevelo scritto giù nei commenti e li leggerò uno ad uno bene poi quarta categoria quarta 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 la penitenza è fai tracing in aria e invita i tuoi iscritti a indovinare nei commenti cosa hai scritto quindi oltre a scrivermi chi bacereste voi alla francese dovrete scrivermi qui giù nei commenti che cosa avrò scritto facendo tracing nell'aria per chi non lo sapesse il tracing è questo tracciare solitamente si tracciano lettere ma si può fare tracing anche sui disegni e vi ho fatto un video dedicato al tracing che riproporrò in un'altra versione a breve perché me lo avete richiesto ecco quello che dovrete scrivere nei commenti è e 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 chi avrà indovinato? vedremo intanto siamo arrivati all'ultima categoria testamento e la domanda a cui devo rispondere è cosa lasci ai posteri? cosa vuoi che il mondo ricordi di te? dunque a livello materiale ai posteri non lascio quasi niente a parte i miei diari e questi video che qualcuno un giorno forse riguarderà se esisterà ancora youtube se esisterà ancora internet e cosa vuoi che il mondo ricordi di te? beh io quando ero un adolescente avevo proprio voglia di cambiare il mondo e avrei tanto voluto diffondere la voce e farmi sentire per lasciare messaggi positivi con il tempo mi sono un po' disincantata rispetto alla possibilità di cambiare il mondo e soprattutto sono arrivata alla concezione che non sia giusto che io cambi il mondo cercando di cambiare le menti degli altri ma che devo essere io in primis il cambiamento che come dicevo una famosa frase voglio vedere nel mondo quindi spero di comportarmi nel modo migliore e vorrei che il mondo ricordasse questo dei miei progetti sociali cioè qualcosa che ho lasciato online quindi anche quello può essere qualcosa di cui andare fieri e che vorrei che il mondo ricordasse ma soprattutto vorrei riuscire a portare qualcosa di buono grazie alle mie azioni e quindi essere ricordata come una persona che è riuscita a fare in qualche modo del bene spero di aver spiato tutte le mie colpe adesso ti do la buonanotte ti do la buonanotte lasciandoti con un po' di suoni del giuffetto dei sogni quindi abbassiamo le luci e ok buonanotte noi ci vediamo come al solito se ti va nel prossimo video bacini fatosi adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte ecco adesso le